Cosa stai preparando? Dunque, dei cappelletti al ripieno di magro E ripieno cosa sarebbe? Il ripieno è ricotta e spinace Molto semplice La pasta con quante uova le fate? Dunque, questa pasta qui Abbiamo rivisto le due ultimamente Facciamo 350 g di farina zero 150 g di farina rimacinata 150 g di uova intere 150 g di uova di tuorli Sotto un po' di parmigiano Una spoverata di noce moscata Abbondante E sopra si finisce con una panna Panna all'ardo e parmigiano Per farla lasciare in sala a commensale Questo piatto è stato preparato da? Marco dell'Estate di San Martino Villano Badasti